E come di consueto eccoci arrivati all'angolo della tecnologia, naturalmente vista e spiegata da me, che sono donna, e di conseguenza quindi la spiegherò al modo delle donne. Oggi parleremo della chiave e della serratura. Cominciamo dalla chiave, che tutti quanti usiamo tutti i giorni, eccola qua. È fatta in ottone o alluminio. Vediamo che ha una bella serie di scavature. Si chiamano canali, li vediamo dalla freccia rossa. Ogni canale ha una certa misura. Ognuno è diverso dall'altro e tutti insieme diventano la combinazione della chiave. Ogni canale può variare la sua misura anche di mezzo decimo di millimetro. Perciò, anche se sembrano tutte simili, le chiavi offrono milioni di combinazioni da cui deriva la nostra sicurezza. Allora vediamo poi cosa succede. Quando inseriamo la chiave in questo modello reale, vediamo che i pistoncini della combinazione si muovono. Ecco. E quando la chiave è tutta inserita, il lucchetto verrà aperto. Rivediamolo. La chiave entra e i pistoncini si muovono fino a trovare la combinazione ed ecco che si apre. In realtà i pistoncini sono scomposti in due parti. Uno che va a scorrere sulla chiave ed uno che resta nella parte fissa della serratura, che si chiama contropistoncino. C'è poi la molletta, che tiene spinto il gruppo verso la chiave. Ogni gruppo di pistoncino corrisponde ad un canale della combinazione della chiave e naturalmente, se la chiave non è tutta inserita, la serratura non si apre. Possiamo vedere che quando la serratura viene aperta, i pistoncini sono perfettamente allineati nella parte che ruota ed apre, mentre i contropistoncini restano nella parte fissa, assieme alle mollettine. Ora possiamo vedere come una semplice leva, il gruppo di blocco del luchetto, vada a sbloccare e ad aprire l'arco del luchetto. Tutto chiaro? Naturalmente non esiste soltanto questo tipo di sicurezza, ne esistono altri centinaia di sistemi. E noi, come sapete, ne impariamo a conoscere solo uno alla volta, e se no non basterebbe una giornata di trasmissione. Anche questa pillola è finita. Vi saluto e vi aspetto alla prossima. Ciao!